che sta combinando ammò che stai facendo sto facendo una cosa importante da mettere nel portone sotto ma che è lettura libri a casa dei morti fami 3 euro l'ora sì 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 come lettura libri guarda vieni con me mi è venuta questa idea geniale io ora lo stampo lo metto là sotto e loro possono venire a casa a leggere libri guarda mi è venuta quest'idea grazie a una follower come una follower no vabbè ragazzi chi sta combinando non lo so oggi è andato di nuovo un altro libro un altro pacco da simona martone un abbraccio virtuale da simo guarda bellissimo il libro di gianni agnelli gianni agnelli il bianco bello sì ma io non capisco come stanno arrivando tanti libri tanti libri c'ho io tanti libri arriveranno tanti libri io avrò allora ho detto io me li metto tutti i sistemati guarda guarda mi sto combinando guarda 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 inquadra ora prendo anche quelli della camera da letto levo i soprammobili e gli metto lettura libri a casa dei morti di fame loro vengono tre euro l'ora tre euro l'ora mi pare bocca assai e si sbrigono a leggere se sono mortacchi che non capiscono niente se sono mortacchi e non capiscono niente peggio che loro sì ma è illegale sta cosa mica noi siamo la biblioteca comunale la biblioteca dei morti di fame libri belli freschi freschi di stampa mica su libri docentenario no vabbè saluta non su libri caffè torutina fittillina docentenario in giallina saluti libri nuovi ciao ragazzi io faccio un business Eeeh